...e ovviamente come... ...e hanno approfondito le tematiche di natura strategica e quindi costituiscono la base di ogni scelta che uno può... ...interessa capire cosa pensate dello scenario strategico attuale, che cosa sta succedendo... ...la versione, quali sono gli effetti sui singoli, sulle strutture, sulle organizzazioni che facciamo parte... ...la organizzazione completa di quelle sue responsabilità unico, che è l'unico personaggio, forse che parlate da qualche anno, a livello di forza... ...la ferma ancora che riprendiamo, allora lei è il più genuista della relazione, e le dico Pizzi... ...e che cosa comporta tutto questo per noi, che siamo in un'Unione Europea, di cui sta... ...le scelte politiche per la miglior quantità, maggior poi la morte... ...l'esigenza di scongiurare una competizione tra le richieste dei simboli capi di Stato Maggiore... ...è proprio ora di chiudere l'ombrello, ...è un'unica gestione di costruzione e di riduzione...